Ruggiflex, ci trovi a Cabo dei Tirrelli, in via Gaetano Accarino 37, telefono Fox 089 46 27 62. I carabinieri del reparto territoriale di Nocella Inferiore hanno tratto in arresto nella giornata di ieri, domenica 16 giugno, due soggetti gravemente indiziati dell'omicidio commesso con premeditazione per futili motivi del 35enne Mario Carotenuto, avvenuto intorno alle 3 di notte di domenica 16 giugno ad Angri, in via Risi. L'attività investigativa dei carabinieri intervenuti a seguito della morte del 35enne, colpito da un colpo d'arma da fuoco e da un oggetto contundente, identificato in seguito in una mazza da baseball, ha consentito di ricostruire il vissuto della vittima, nelle ore immediatamente precedenti l'omicidio, accertando che in due precedenti occasioni, nella stessa sera, la vittima si era resa protagonista di alcune condotte di disturbo a clienti e personale di alcuni locali della Movida del centro storico di Angri, da cui erano scaturite vere e proprie collutazioni. La visione delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza della zona ha permesso di ricostruire nel dettaglio le fasi di preparazione ed esecuzione dell'omicidio. I carabinieri, attraverso le prove raccolte, sono riusciti ad identificare i presunti autori dell'omicidio del giovane. Individuati in un quarantenne imprenditore di Angri, titolare di un note locale della Movida del centro storico e di un suo collaboratore trentenne di origini rumene, rinvenute e sequestrate una mazza da baseball ed una pistola, armi utilizzate per l'agguato punitivo. I soggetti arrestati sono stati condotti su disposizione del pubblico ministero presso il carcere di Forni.